I tradizionali 12 colpi di bombe a cannone, un prolungato scampanio, hanno segnato oggi l'inizio ufficiale delle festività agatine. Come da tradizione, a mezzogiorno circa, dalla chiesa di San Biagio in piazza Sesigoro, è partita la fastosa processione liturgica e senatoria per l'offerta corale comunitaria della cera alla Santa Patrona. Come ogni anno, l'antico cerimoniale si è svolto secondo le rigide regole che lo compongono. Il Senato cittadino, cioè il sindaco e la sua giunta, hanno sfilato fino in cattedrale con la carrozza del Senato e la seconda berlina, preceduti dai gruppi parrocchiali seguiti dal Consiglio Direttivo Confederazione Confraternale Arci di Ocesana, dai rappresentanti delle confraternite, dai terzi ordini secolari e dai movimenti ecclesiali. In coda alla processione, che si è conclusa in cattedrale, salutata dal canto solenne composto e diretto da Monsignor Nunzio Schillirò, le dodici candelore che già le prime luci dell'alba hanno aglietato i cittadini con la tradizionale sfilata in pescheria. La festa dunque è cominciata e già per le strade si respira quell'aria tipica dei primi giorni di febbraio, che per i catanesi è fatta di fragrante profumo di dolci e del pruriginoso odore di polvere da sparo, tipico dei giochi pirotecnici che fino alla conclusione delle celebrazioni in onore della Santa Patrona, imperverseranno in molti punti della città. Grazie.